E' intollerabile che una persona anziana, una persona in difficoltà, un disabile, un minore venga maltrattato, così come è intollerabile che qualche farabutto che fa questo lavoro getti un'ombra in tutte quelle brave persone che lo fanno. Arezzo si candida comune pilota nella sperimentazione delle telecamere negli istituti di cura e negli asili. Le immagini sciocca dei maltrattamenti agli anziani nella casa di riposo di Castel San Nicolò in provincia di Arezzo hanno infatti riportato l'attenzione su questo tema ed è in attesa che la proposta di legge per l'obbligatorietà dell'installazione delle telecamere negli asili, case di cura e strutture sociosanitarie venga calendarizzata ed approvata che anche da Arezzo è partita la proposta di una predisposizione di un fondo per sostenere chi in via sperimentale vorrà procedere all'installazione delle telecamere. Ieri insieme ad Anna Grazia Calabria e Maurizio Detto abbiamo in qualche modo deciso di fare un percorso parallelo e più veloce che quello di chiedere al governo qualunque esso sia di istituire un fondo di dotazione finanziaria per quei comuni che ritengono di fare delle sperimentazioni. Perché? Perché noi possiamo sostenere una sperimentazione, due sperimentazioni ma non possiamo pensare di sostenere da soli in maniera finanziaria la possibilità di video sorvegliare tutte le realtà che sono oggetto di questa proposta di legge. La giunta retina inoltre si è già dichiarata disponibile ad attivarsi sin da subito con l'installazione di telecamere all'interno della casa di riposo Fossombroni. In piena sintonia con la presidente della Casa Pia abbiamo stabilito che la Casa Pia sarà il primo luogo dove tenteremo di fare questa sperimentazione.